Il Sole così come non l'abbiamo mai visto, immagini di un evento che si verifica solo 13 volte in tutto un secolo ed è quello che offre Mercurio, il pianeta Mercurio è uno spettacolo straordinario, suggestivo, le vedete che è un passaggio veramente significativo perché il pianeta più piccolo del sistema solare passa davanti al Sole ed è visibile creando una specie di microeclissi e per questo decine e decine di telescopi ieri sera erano tutti puntati verso il Sole per questo spettacolo lo vedete davvero meraviglioso, è stato possibile vederlo da tutta Italia, dal nord a sud intorno alle 13 e un quarto è stato un passaggio molto lento, durato all'incirca 7 ore e mezza